14 febbraio 1404 Nasce a Genova Leon Battista Alberti, architetto, matematico, letterato. Figlio di un esule fiorentino, figura emblematica dell'umanesimo, è l'autore di due opere fondamentali. Il De Pictura, che tratteggia il nuovo ideale di artista e descrive per la prima volta le regole per rappresentare gli oggetti in prospettiva, è il De Re Edificatoria, il primo trattato moderno di teoria dell'architettura. Nel 1456, a Firenze, culla di molte sue intuizioni e studi, progetta la facciata della chiesa di Santa Maria Novella. Muore a Roma nel 1472.